È arrivato il momento dell'epilogo, i trofei motestate sono pronti ad affrontare l'ultimo round della stagione, quello di Cervesina, in cui vedremo l'assegnazione di tutti i campionati, o quasi, perché l'unico che è stato assegnato finora è quello della Risata 600, in cui Alberto Bettella ha fatto Amplen laureandosi campione. Ricordiamo che Bettella questo fine settimana correrà nella 600 Open, una delle tante altre categorie dei trofei motestate dove ci si gioca il campionato. La 1000 Open vede in testa nella sua classifica Alessandro Costantino, seguito a soli 4 punti da Paolo Cristini, qui non ci si può permettere di sbagliare. Se la Risata 600 ha già il suo campione, non mancherà comunque lo spettacolo, perché c'è una bagarre apertissima per la seconda posizione del campionato, in questo momento legata ad Osler, che dovrà difendersi da William Benedett, De Padova e Copponi. 9 sono i punti di vantaggio che Matteo Cristini ha nei confronti di Diego Vitellaro, la Risata 600 si prepara ad un gran finale. Il primo vero anno della categoria Sport Bike, che quest'anno vede l'assegnazione del titolo all'ultima tornata. Roberto Jason Sarchi, con 113 punti, ha un vantaggio discreto su Fabio Starnone, 22 i punti che separano i due piloti. E anche qui, occhio a Mattias Sorrenti e De Stefanis, che potrebbero rivelarsi gli aghi della bilancia nella lotta al titolo. Con la 300 chiudiamo la presentazione di questo weekend, in cui anche qui ci si gioca tutto. Virone primo con 121 punti, Sala secondo a 111, poi Andrea Sorrenti a 101. Qualifiche uno sabato pomeriggio e la domenica mattina, dove dalle 11 inizieranno le gare. Una stagione che è andata sopra le righe per le tante emozioni vissute, e c'è ancora l'ultimo round, quello più importante, dove ci si gioca tutto. Grazie a tutti.